Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Buongiorno Ezio E' ora di fare una visitina all'amante di Lutezia, Pietro Ho già chiesto ai miei uomini di trovare Molto bene Ezio Se posso Cosa c'è? Qualcuno ha avvisato Rodrigo di stare lontano dal castello Machiavelli? Ne hai le prove? No Non dobbiamo farci dividere da semplici sospetti I Borgia, sanno dove si trovano le nostre spie Chi gliel'ha detto? Messer Machiavelli ci aveva chiesto delle nostre ricerche su Pietro Ezio? No Non dobbiamo farci E' un'altra cosa. 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 E cosa avete scoperto? Pietro verrà assassinato questa sera. Cesare ha incaricato il suo macellaio. Micheletto! Il migliore di Roma non ha mai fallito. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Avete scoperto qualcosa su Pietro? E' un attore. E' un attore e stasera sarà impegnato a recitare in una rappresentazione. Vai vai! E' un'altra cosa. 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 state vicino che cosa avete saputo di pietro sarà appeso a una croce micheletto lo ucciderà con una lancia ahhh